Il primo dato molto significativo della giornata di oggi è che su 28 guariti ci sono 15 nuovi casi. Si conferma quindi la tendenza registrata già ieri che il numero dei guariti supera il numero dei nuovi casi. Sono guariti 10 soggetti nella provincia di Arezzo, 7 soggetti nella provincia di Grosseto e 6 soggetti nella provincia di Siena. I 15 nuovi casi sono 1 soggetto di 83 anni della RSA di Bucine che dal piano secondo è stato trasferito al piano terra. Ricordiamo tutti come l'azienda USL Toscana Sud-Est ha preso in gestione il piano terra della RSA di Bucine trasformando questa struttura in una struttura di cure intermedie dove con proprio personale prende in gestione dal punto di vista sanitario gli ospiti risultati covid positivi. Un caso a Civitella in Valdichiana, tre casi a Montevarchi, due casi in San Giovanni Valdarno. Si tratta complessivamente di 7 nuovi casi in provincia di Arezzo. Per quanto riguarda la situazione dei decessi, registriamo nella ASL Toscana Sud-Est nella giornata di oggi tre decessi, di cui uno si tratta di un soggetto di 92 anni deceduto in ospedale San Donato proveniente dalla RSA di Montevarchi e due soggetti in provincia di Siena, una donna di 88 anni di Torrita e un uomo di Abbadia San Salvatore di 70 anni. In effetti quest'ultimo soggetto io l'ho indicato ieri perché il soggetto è morto il 19 aprile del 2020. Compare oggi nel report perché la iscrizione nei registri è avvenuta oggi pur essendo avvenuto il decesso in data 19. Rispetto alla situazione dell'RSA, segnalo un caso in una RSD a Serravalle in Casentino. Si tratta di una struttura in cui gli ospiti e gli operatori, circa una novantina, hanno effettuato l'esame sierologico e l'esame molecolare. Di sette ospiti avevamo avuto un esito incerto del test molecolare che è stato ripetuto. Di questi sette, un soggetto è risultato positivo ed è stato immediatamente messo in isolamento. Da più parti mi viene segnalato la richiesta di aprire delle RSA Covid nei territori. Ricordo che la Regione Toscana ha fatto una scelta di campo molto diversa da quella delle altre regioni. I soggetti Covid positivi devono essere posti in isolamento e se sintomatici presi in carico dal sistema sanitario regionale. Non in una RSA, ma nei livelli di assistenza sanitaria, quindi presi in carico o nel livello di cure intermedie o nel caso dell'ospedale. Quindi non esistono le RSA Covid in Toscana. Da più parti vogliono sapere, mi chiedono chiarimenti su cosa è successo per gli alberghi sanitari. E' successo questo, che il prefetto, esercitando i poteri attribuiti dalla norma, sta effettuando, ha ordinato la valutazione di strutture alberghiere. E il Dipartimento di Prevenzione sta fornendo al prefetto tutto l'aiuto necessario affinché l'individuazione sia fatta nei confronti di una struttura che abbia tutti i requisiti perché l'accoglienza dei soggetti Covid positivi possa essere fatta in assoluta sicurezza.